Sono felice che Jonghyun sia finalmente a suo agio a dormire in nostra presenza. Sembra così rilassato. E FULNERABILE! Questo comic è stato realizzato da Silly Kitty Drawings che, per quanto è stata gentile, lo ha realizzato esclusivamente per farcelo doppiare. È dunque una collaborazione. Quindi, andate a seguire la sua pagina Instagram se vi piacciono i suoi disegni. Questo è anche un segnale per voi, quindi! Se siete degli artisti, a prime armi o anche avanzati, potete inviarci i vostri comic per farci doppiare. Noi saremo molto molto felici di lavorare con voi e di avere del nuovo materiale. Ringraziamo inoltre Nico e Angela che ci supportano su Patreon. Proprio oggi gli abbiamo consegnato i due audio che hanno di diritto per supportarci. 5 minuti del vostro personaggio preferito che parla esclusivamente a te. Oioioioi, ferma! Angela, fermati! L'hai bevuto nel frattempo? Wow, guarda chi si vede! Curioso vederti qui, Nico! Oltre a questo ricevereste pure dei contenuti esclusivi ogni mese, come per esempio le suonerie dei personaggi degli X-Listener nel nostro canale. Ehi piccola Gemma, ti cerca? C'è il ghiattino, hai un messaggio! Ci stanno di tutti i personaggi che abbiamo fatto finora e verranno aggiornati per quanti personaggi faremo. Quindi, se volete questi contenuti e molti altri, veniteci a supportare su Patreon. Grazie della visione e iscrivetevi al canale. Ciao ciao!